Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino. Grazie chiedo a te, Gesù divino, in questo giorno di grazie prego per te, Ave Maria, piena di grazie, Signore, a te, che sia fatta la tua volontà, cose in cielo e cose in te. E' il Padre, il Figlio, il Spirito Santo. Amen. Grazie a te, Gesù divino. Grazie a tutti Inizia a tutti i miei Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.